Ragazzi, sono Salvatore e oggi vi spiegherò 20 cose interessanti. Il miele non scade mai. Tra 20 secondi si badighierete anche voi. Lo sapevate che il regista dell'esorcista è stato andato al manicomio dopo aver girato il film? Il taschino del jeans serviva a cowboy per portare le pepite d'oro. Lo sapevate che prima la Nokia aveva un loco di un animale di mare, anzi di un pesce di mare. Lo sapevate che la Nintendo è nata nel 1840. Ah, mi correggo. E faceva carte da gioco. Lo sapevate che lo starnuto a quando viaggia a chilometro orario? Si dice che viaggia a 150 chilometri orari, ogni getto che uno fa gli starnuti. Ah, la pastiscia è stata copiata molte cipre volte ma non ci sono mai riuscite. L'iPhone è stato copiato da un prodotto del 1945, ma era un semplice giocattoli. Si chiamava lo stesso iPhone. Michael Jax voleva recitare la parte di Spider-Man in un film, ma non gliel'hanno mai permesso di citare. La tecnologia del nostro telefono è più avanzata di quella che hanno fatto per andare sulla luna. Super Mario distrugge i mattoni con i punti. Il Super Starian doveva essere verde. La PlayStation 1 è stata popolare per chi poteva masterizzare i giochi. Il film EAT ha fatto iniziare a fare la paura dei clown. Il best link è finto. Comunque ragazzi concludo questo video. Se vi è piaciuto il mio video, condividete e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, suonate la campanella. Ciao, ciao.